Prove tecniche Prove tecniche Prove tecniche Prova 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 uno due tre prova Queste sono prove tecniche Oggi è San Valentino Stiamo provando Le piattaforme Nuovi colgamenti Più che da più che ne metta E a questo punto Anche se siamo in prove tecniche Di trasmissione oggi Siamo in diretta Ricordo che siamo in diretta 10.50 minuti primi e 0.9 secondi Venerdì 14 febbraio 2020 Maurizio DJ Oggi in prove tecniche Di trasmissione Lui forse non si sa se c'è Adesso è ancora in fase sperimentale Perché è tutta mattina Che anche lui Non so se sta mettendo una tiscierna Un pigiama Io non ho capito Sì mi devo farmi la barba Ecco ecco Io in questo momento la sento Io prima non so perché non la sentivo Adesso siamo in diretta Sì in diretta Ora siamo in diretta Un attimo che voglio provare A mettere su anche uno stacco Perché io capisco Metti su quello che mi piace Lì quello di una volta Lì quello di canale 5 Lì con il serpente Sì 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 Ora io provo invece A mettere su uno stacchetto normale Ecco perché di là in regia Non ho nessuno Letteralmente Radio By Yoga Network www.letteralmente.info Nostro indirizzo di posta elettronica Radio Yoga Network Chiocciola Gmail.com Direttamente al cuore Eccoci qua Ecco Eccoci qua Se non siamo qua Saremo da un'altra parte Eh mi sa di sì eh Comunque siamo sicuri Che oggi è la giornata dell'amore Non solo per gli anionali Ecco Ecco Non solo per la radio Perché ognuno ha il suo amore Chi ha la radio Chi ha la televisione Chi ha un amante Tricetracchete Ballachchete Allora Allora Così ecco 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 Infatti vedi che non funziona Lo sapevo io Appunto io Cosa è successo? Secondo me è andata intorno alla Jacqueline Questa notte Ecco Lei si deve essere alzata Quando io mi sono addormentato Eh Io ho quell'impressione Lì Perché Allora Perché non mi va più La voce Come ho già segnalato Ai nostri tecnici Ma non c'è ancora nessuna risposta Secondo me è successo qualcosa di non tanto simpatico Perché Perché tu premendo il tasto più Eh lo dico per i tecnici che stanno ascoltando Compare una lista La playlist La playlist Jingle Adesso siamo ancora in diretta Sì 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 siamo ancora in diretta Ma sono prove tecniche Perché perché volevo controllare se nel registrato partiva Invece non partivi Invece non partivi né te E qui Invece in questo caso in diretta Vanno le telefonate Ma non va a quello che dovrebbe andare Ecco Giusto per capire Sì perché Allora ascolta un attimo Allora Se io premo il tasto fatto Ecco Sembra quella punturina Tipo quella pubblicità E l'anima del commercio Ecco Ecco Vediamo se Perché qui non parte nello stacco Non parte State ascoltando Letteralmente Radio By Yoga Network www.letteralmente.info Nostro indirizzo di posta elettronica RadioYogaNetwork Chiocciola Gmail.com Eh lo so La Zaclina è la Zaclina Lo so Lei pensa solo a mangiare E lo so Lo so Non esistono problemi Lo so Ascolta Io adesso Chiuderei queste prove tecniche Perché siamo Oggi Va così Non riusciamo ad andare in diretta Non lo so Cos'è successo Proviamo a disattivare Il server Vediamo se la volta è buona Vabbè Chiudiamo qui Saluta pure Queste prove tecniche Ciao a tutti gli ascoltatori E non so quando Che ci riscederemo Non so Non so Non so Grazie.